SACED. Soluzioni per l'ambiente e l'energia. Dal 2010 SACED è costituita da due divisioni, la divisione energia e la divisione ambiente. La divisione energia effettua vendita all'ingrosso e al dettaglio di pellet di legno confezionato in sacchi, in big bags e sfuso. Vendita all'ingrosso di cippato di legno, triturazione di materiali legnosi per combustione in impianti di cogenerazione, commercio o prodotti petroliferi per autotrazione, riscaldamento, agricoltura. La divisione ambiente possiede e gestisce un impianto di stoccaggio e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, in grado di ricevere e selezionare varie tipologie di scarti con l'obiettivo di recuperare la percentuale maggiore di materiale di risulta. Grazie ai contatti con i maggiori smaltitori, al proprio parco veicoli autorizzato e al servizio di noleggio cassoni e compattatori scarrabili e trituratori, SACED può gestire qualunque tipo di rifiuto, analisi chimiche di classificazione dei rifiuti, raccolta, stoccaggio e selezione rifiuti speciali assimilabili agli urbani, raccolta, stoccaggio e elaborazione rifiuti recuperabili, rimozione, trasporto e smaltimento coperture in Ethernet. Denuncia Mood annuale.